La coppia franco-tedesca riparte da Strasburgo, intervenendo al Parlamento europeo per la prima volta insieme dopo 26 anni. I cancellieri tedesco Angela Merkel e il presidente francese François Hollande hanno cercato di definire soluzioni per l'emergenza migratoria. Rimettere in causa la libera circolazione delle persone ripristinando le frontiere interne sarebbe un tragico errore, ha detto il presidente della Repubblica Francese. Ma pretendere che Schengen con il suo funzionamento attuale sia in grado di affrontare le pressioni ai confini sarebbe ugualmente un errore. Rafforzare i controlli alle frontiere esterne, definire una lista di paesi di origine sicuri, rivedere le procedure d'asilo e il regolamento di Dublino, François Hollande e Angela Merkel hanno stilato la lista delle priorità. Solo insieme riusciremo a gestire l'enorme compito dell'integrazione che ci aspetta, ha sottolineato il cancelliere tedesco. Ci possiamo giustamente aspettare che le persone che sono giunte da noi si integrenano nelle nostre società, ma in cambio abbiamo l'obbligo di trattare le persone che fuggono la povertà e il disagio con rispetto. E non come se fossero una massa anonima e questo indipendentemente se abbiano la prospettiva di restare o meno. I due leader hanno sottolineato la necessità di affrontare le cause di questo afflusso di rifugiati e di trovare una soluzione politica a conflitto in Siria, temi che saranno al centro del prossimo vertice europeo.